abbiamo parlato spessissimo di risarcimento del danno nel caso in cui le opere con il super bonus al 110 per cento non sono iniziate non sono state completate sono state svolte male quindi non secondo la regola dell'arte abbiamo anche accennato in altri video di come si fa a calcolare il danno che tu hai patito per uno di questi tre motivi sai che in ambito super bonus è diverso se tu vai da qualsiasi avvocato quindi anche da me oppure da un professore universitario che insegna diritto civile e gli chiedi come si calcola il danno lui ti dice si calcola sommando il danno emergente e il lucro cessante ti spiego già in altri video più nel dettaglio di cosa si tratta ma qui lo rimettiamo un attimo sulla scrivania in modo di riagganciarsi perché poi bisognerà aggiungere qualche cosa allora innanzitutto ricordati sempre che il danno emergente e il danno lucro cessante il lucro cessante sono i soldi che tu ci hai rimesso a causa di quell'evento a causa di quell'evento che è accaduto se tu sei un camionista e ogni giorno grazie ai tuoi trasporti hai un fatturato di 1000 euro cambia mestiere di 5 6 mila euro allora avere il camion in carrozzeria per 15 giorni ti ha dato un danno pari a x euro quindi danno emergente e lucro cessante il danno emergente e il lucro cessante sono due parole veramente difficili che però in realtà sono semplici il lucro cessante è i soldi che ci hai rimesso a causa di quell'evento dannoso quindi se sei un camionista e per esempio ogni giorno per il tuo viaggio guadagni 1000 euro cambia mestiere quindi se guadagni per esempio 3000 euro al giorno grazie ai tuoi viaggi se io ti rompo il camion perché te lo danneggio con una mazza perché ti vengo addosso con il mio furgone e lui deve rimanere fermo per la carrozzeria per aggiustare il motore cinque giorni sette giorni lavorativi tu moltiplicerai quei 3000 euro per cinque giorni o sette giorni e quello è il lucro cessante non hai potuto lavorare oppure se hai potuto hai preso un camion noleggio ti dovrò risarcire il costo del noleggio del camion perché comunque tu hai lavorato i 3000 euro al giorno li hai portati a casa quindi ti pago solo il noleggio questo è una prima componente di danno poi c'è il danno emergente il danno emergente è esattamente il vero e proprio danno che tu hai subito per esempio restando in ambito delle macchine se io ero arrabbiato con la bicicletta ti sono venuto addosso il fanellino della macchina e te l'ho rotto costa 300 euro cambiarlo ti vengono 300 euro ok questo è il 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 in po il meccanismo ma come riusciamo in ambito contrattuale quindi parliamo di contratto d'appalto tradizionale non parliamo di danno da parte di di contratto d'appalto super bonus quindi facciamo un passino alla volta quindi contratto di appalto tradizionale io ti ho svolto le opere te le ho completate ma non sono state fatte bene a quel punto si il giudice dirà un mio tecnico esca e mi dica se le opere sono state svolte bene o male se sono state fatte male dovrà anche essere indicato quanti soldi ci vogliono per mettere a posto per mettere a posto questi difetti questi vizi e quello è l'importo del danno che si è che sta che si è che si è che si è cagionato chiaramente qua stiamo di danno emergente e se invece vogliamo sempre per rimanere in questi due esempi perché ripetendoti questi termini ti entrano quindi ripeto mille volte non per annoiarti ma proprio per farteli entrare in testa perché la ripetizione fa fissare le cose nel nostro cervello allora abbiamo il lucro cessante in questo caso se la tua non è un'abitazione ma bensì per esempio una fabbrica oppure un ufficio è una fabbrica che lavora il legno il tetto è stato fatto male piove dentro di certo con il legno l'acqua non va tanto d'accordo e ho dovuto spostare i macchinari dove piove dentro e quindi non ho potuto continuare la mia produzione di compensati di molti strati o di quello che di mobili di quello che fai e quindi mi viene l'esercito trasformato quindi una somma economica l'importo che io ci ho rimesso lucro cessante il danno emergente quanto costa riparare per mettere a posto il tetto del tuo lavoro fatto male per esempio li fatevi fare le guaine il lucro cessante invece ho dovuto fermare la produzione e questo è nel contratto di appalto normale se qualcosa non è stato fatto bene se invece il cantiere è stato abbandonato a metà in questo caso il danno emergente andremo a calcolare con l'importo di quanti soldi ci vogliono per completare le opere per esempio ho fatto metà lavori l'appalto era da 500 mila euro se mancano circa metà lavori con un valore di 250 mila euro mi devono essere dati 250 mila in modo che io possa continuare possa completare le opere se le opere proprio non sono iniziate il mio danno è quello dell'importo dell'appalto quindi se l'appalto era 500 mila mi devono essere dati 500 mila euro questo quindi i soldi necessari per chiamare un'altra imprese fare i lavori perché è un danno che tu mi hai fatto perché c'è un danno perché tu ti sei impegnato con un contratto cosa il contratto di speciale cosa il contratto di straordinario cosa il contratto di super fortissima che ha valore di legge tra le parti per cui come tu sei obbligato a passare solo con il verde non con il giallo e non con il rosso quando firmi un contratto sei obbligato a fare quello che c'è scritto lì detto questo spostiamoci in ambito super bonus i lavori sono fatti male cambia niente uguale a prima vediamo quanto è l'importo per mettere a posto le opere pensavo di aver battuto il microfono delle opere e vediamo di capire quanto ci vuole per ripristinare 100.000 50.000 3.000 7.000 quello è contratto di appalto tradizionale super bonus 110 per cento non mi hanno completato le opere e qua o nome non mi hanno completato le opere questo è il caso più delicato in assoluto perché questa è una situazione solo ed esclusivamente per il super bonus e qui bisogna capirne veramente bene allora quando parli di super bonus c'è una cessione del credito chiama la cessione pura chiama la sconto in fattura c'è sempre una cessione di credito il credito di imposta va nel cassetto fiscale di un altro cosa dice la norma da una parte dice che tutte le opere che vengono pagate tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre che riguardano il super bonus generano un credito di imposta del 110 per cento e se vuoi lo cedi con la normativa vecchia ma chi adesso parla di super bonus ha anche la cessione del credito se però tu cedi un credito e non completi le opere fermo la prima ho parlato di tutte le spese sostenuto vuol dire pagare e che è diverso dall'aver svolto le opere se io non completo le opere di efficientamento energetico di almeno due classi energetiche quei soldi li devo restituire l'agenzia delle entrate doppie più gli interessi solo se pago entro 30 giorni da quando mi arriva la cartellina dell'agenzia delle entrate allora ho uno sconto pago solo un terzo bla 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 ma tu mi capisci bene c'è un cantiere sfortunatissimo che scusi un cantiere piccolissimo è un cantiere da 350 400 mila euro mentre che hai fatto anche una sola cessione del credito di un terzo c'hai 150 mila euro di credito che è girato per il genere del contractor e magari finito venduto in una banca tu mi capisci bene che lo raddoppiamo diventano 300 mila ci mettiamo vicino un po di interessi che naturalmente siccome lo stato ci adora sono anche alti e quindi magari mi trovo con 350 mila euro a tirare fuori di ai tu entro 30 giorni io no e quindi parliamo di cifre intere detto questo come funziona questo meccanismo quando andiamo a calcolare il danno regola numero due il danno per poter essere esercito deve essere reale deve essere scaduto chiamalo così cosa vuol dire che tu non puoi chiedere un risarcimento del danno per un danno futuro che forse avrai o non avrai cosa vuol dire che tu adesso fai causa l'impresa perché non ti ha completato le opere abbiamo detto che ha fatto 150 mila euro di opere ed era 300 mila l'importo totale o 450 mila gli chiedi i 200 mila di differenza 400 meno 150 200 i 200 mila euro di differenza ma siccome lì potrebbe arrivare l'agenzia delle entrate quando l'agenzia delle entrate arriva gli dovrei fare causa di nuovo e quindi è importante che nel primo atto scrivi mi riservo se l'agenzia delle entrate viene a bussare la porta e quindi tu quando sei in questa situazione hai due possibilità se puoi chiama un termotecnico chiedigli cosa devi fare per raggiungere esattamente le due classi energetiche se c'è bisogno fai debito ma completa le opere chiudi tutto che così ti togli dai piedi l'agenzia delle entrate poi si va contro l'impresa e ci si fa disarcire un po tutto quanto se invece non hai la possibilità economica di completare le opere chiedi al general contractor che ti restituisca il credito che tu dopo non porterà in detrazione né niente ma facilmente non te lo darà io ho avuto dei casi a dire la verità dove con il general contractor ci siamo accordati gli abbiamo dato qualcosina ma veramente qualcosina e ci hanno restituito i crediti e quindi voglio dire l'abbiamo abbiamo portato a casa bene però non tutte le situazioni sono così non sono non sempre il general contractor può farlo perché magari li ha già venduti c'è un general contractor qua della provincia di vicenza che sarà un mesetto fa circa un mesetto fa è fallita e di queste situazioni ce ne sono parecchie ma questo aveva ceduto tutti i crediti perché appunto questo era l'acqua con l'acqua lavora per overbooking e quindi voglio dire lì in quel caso tutti i clienti che sono trovati con i lavori da completare hanno fatto hanno seguito questo mio consiglio ne ho seguiti tanti a dire la verità e gli ho detto a tutti la strada più corretta che è quella che ti ho appena detto ma te la ripeto perché vale che è importante allora chiami il termotecnico ti fai dire quali sono le opere da completare per raggiungere esattamente le due classi energetiche si modificano i capitolati si fa la variante in comune e poi si completano le opere così dopo dopo se uno è fallito che causa vuoi fare ma se quello non è fallito dopo si fa causa e si riprende indietro tutto la causa si chiede al giudice appunto di poter avere questo risarcimento nelle componenti che ti ho parlato ultima possibilità i lavori non sono iniziati questa è la migliore situazione che tu possa avere al 15 settembre del 2023 puoi fargli la causa perché questi lavori non li ha mai iniziati ma finisce lì voglio dire ok non è poco ma finisce lì è una situazione certamente migliore di avere il tetto che cola il capotto che si stacca piuttosto che i lavori piantati a metà che quella è veramente una fabbrica di danni è un dramma ok capisci perché è importante riuscire a muoversi molto bene in ambiente super bonus perché non è uguale ai contratti di appalto tradizionali mi fermo qui ti saluto ti ringrazio e ci vediamo il prossimo video ma campanellina metti mi piace così mi dai un po di soddisfazione per questi video che sto facendo per te e ci vediamo al prossimo video